Nei pressi di lungomare Capo Granitola, a pochi passi dal mare, Laguna Blu propone per la vendita una villa di circa 110 metri quadrati. Internamente è composta da. Un'ampia zona living con annessa cucina abitabile. Camera singola. Camera matrimoniale. Servizio completo con box doccia. Ed infine seconda camera singola. Completa la casa circa 1000 metri quadrati di giardino privato.